e niente siamo qui stiamo montando le scene ora vi faccio vedere quello che stiamo facendo un po che non ha chiuso un po che non ha chiuso un po che non ha chiuso un po di diario di bordo si può fare qualcosa un cuscino manca con i bambetti la cuscina c'è con i minchieri per me cose calde proprio che cazzo aspetta ma noi nella cosa della sartoria avevamo presi i centri che si mettevano qua ciao mi stanno chiamando scena 13 jack 4 audio 4 azione ciao bapà ciao ciao spettacolo l'ho fatto un po curante perchè mu vado sopra il palco giusto l'ho fatto un po ma non prendiamoci trazione propria le mani quando è sporco no no ti seguo sempre tutte le mani guarda di nuovo da capo l'ultima voce la capo a partire da qua dici tu ora devi sporcare di nuovo il coltello no però c'è la manica hai capito quindi io vi giusto un po' di nuovo l'ultima voce tu hai detto tu e lo stand by ok noi voglio a distanza wifi wifi di più deve arrivare alla finestra non è ancora arrivata ok Qua c'è Rosario Popolo che sta ripassando la parte in silenzio Sono bruciato io, conto a 10 secondi Mi rendo male il video Arrivo, come ti dico È molto chiara No, no, devi fare assai con palle di chiudere A me la 6.7.1 Isocento, isocento, isocento No Posso mettere isocento No, no, spiego un po' devi fare Dentro Nel senso che uno sta dentro Tu Con il gimbal Faccio i video adesso Fai il video perché questo almeno si vede che parliamo interlombiano Ci ammazziamo Ci ammazziamo Che carino Vabbè tanto non senti mai quindi Non senti mai No non senti mai Non ascolta mai Lui ricorda che è del nord non è che gesticola così tanto Sì però gesticola tipo cos'è sempre Non gesticola siciliano No quelli lasciate rispettare Ah no aspetta Se lei arriva non lo prendete Lo prendete dopo Sì poi Sì Quella pinta là quella secca si fa 5 minuti Bene Ciao Conti Ok Sei troppo bello vestito così Buon flusso La apertana Siamo 3 2 1 1 E E Stavo su perché mi devo stabilizzare io Azione Ho qui le tue foto Oh Allora facciamo ora con questa Che era quella faccia? Ah è bella ci sta Facciamo una cosa ora Allora Campo Fisso Controcampo fisso In effetti poi io faccio altri movimento e basta Ce ne andiamo Bello io sto registrando Bello io sto registrando Corpa che sta ne andando Stare andando i premio Patti Mi stai nel posando Mi pare non è che quando te ne vuoi andare tu Se ti pare che sono scimonita come quelle femminazze che frequenti al nord te lo puoi Lievare dalla testa No io compare io Romino Un ninja Vabbè resti No Ya No 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 Grazie a tutti.